9.36 minuti, siete sempre all'ascolto o magari anche alla visione di RBA Radio e TV e in particolare della trasmissione di informazione mattutina. Lei vi ho preannunciato che avremmo dedicato quest'ultima parte di puntata ad un tema sul quale stiamo cercando di mantenere alta l'attenzione. Abbiamo fatto diverse interviste, non solo io ma anche colleghi dei notiziari o Francesco Piperi, se ne ha almeno due pagine al giorno, il tema delle carceri con il sovraffollamento, l'alto numero dei suicidi in carcere, insomma una lunga serie di violazioni dei diritti. Visto che di violazioni dei diritti si parla per provare a tenere alta l'attenzione, come dicevamo, sul tema, abbiamo pensato di rivolgerci ad Amnesty International, in particolare Amnesty International Italia, e ragionarne con loro e in particolare, quindi siamo molto contenti, di raggiungere Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Intanto ciao e benvenuto qui su Play. Ciao, grazie per avermi chiamato. Grazie mille a te anche perché, come ti dicevo un po' fuorionda, i temi sui quali vogliamo ragionare con te sono magari un po' più, un po' complicati, nel senso che non ti chiediamo tanto di ragionare di dati, di darci dei dati, dei numeri, quanto di provare a fare un'analisi un po' trasversale. Possiamo provare a partire da qui. Negli ultimi mesi c'è un po' l'impressione che l'attenzione sulla condizione dei detenuti, sui diritti di chi si trova in carcere, sia leggermente salita. Hai anche tu questa impressione oppure qualcosa di passeggero e basta? Sì, ce l'ho, ma il motivo purtroppo non è buono, nel senso che stiamo di anno in anno raggiungendo un numero sempre più drammatico di suicidi all'interno degli istituti di pena, che in larga parte riguardano detenuti, ma che comprendono anche agenti della polizia penitenziaria e questo ci dice che ci sono condizioni di vita insopportabili all'interno di quei luoghi che per tanto tempo, dire troppo tempo, abbiamo dimenticato perché è prevalsa una narrazione molto tossica secondo me, per cui chi è in carcere qualcosa di mare ha fatto e viene un po' abbandonato al suo destino, dimenticandoci che i diritti non si conquistano comportandosi bene, i diritti sono innati, quindi le condizioni di detenzione, il rispetto degli standard internazionali, il divieto del ricorso alla tortura, insomma sono descrizioni sempre valide e non è che si perdono questi diritti se sono stati commessi e reati. Chiaro, chiaro, non si tratta di punire delle persone che hanno infranto la legge, è un discorso teoricamente un po' più complicato. Dei recenti sviluppi in quest'estate è un po' come era prevedibile, purtroppo ci sono state altre persone che si sono tolte la vita, ci sono nuovamente situazioni di estremo disagio anche senza arrivare al suicidio, perché molto semplicemente se noi stiamo morendo di caldo qui con il ventilatore a fianco, possiamo immaginare quale sia la condizione di chi si trova in un carcere per lo più tendenzialmente sovraffollato, la stragrande maggioranza delle carceri in Italia è sovraffollata, se non pesantemente sovraffollata, e in tutta questa attenzione magari un po' maggiore sul tema abbiamo intravisto qualcosa di diverso, ad esempio noi in redazione ci siamo un po' interrogati su questa lettera recente delle detenute del carcere Lorusso Cotugno di Torino, direttamente al Presidente Sergio Mattarella e ci chiedevamo, insomma sta cambiando qualcosa anche da questo punto di vista, insomma lo sguardo tra istituzioni che si trova in carcere forse si sta modificando qualcosa? Io distinguerei tra un'attenzione nelle istituzioni che passeggerano, passeggerano, tipicamente ad agosto ci sono molte visite nelle prigioni, alcune di queste sono, penso, il Partito Radicale, mi permetto di fare questo nome, sono ricorrenti. Quest'anno c'è stata un po' una corsa a entrare nelle prigioni da parte delle istituzioni che mi sembra abbastanza strumentale con alcuni casi in cui sono state espresse anche affermazioni rispettose nei confronti dei detenuti. Non di meno una speranza nelle istituzioni, in chi è dentro da quei luoghi rimane. Io direi una speranza nella istituzione. Io credo che il Presidente Mattarella in molti casi rimanga un po' l'ancora, l'ancora dello Stato di diritto, del rispetto delle leggi, quando le leggi sono giuste. Aggiungerei anche del rispetto delle sentenze internazionali, perché l'Italia ha una tradizione di condanne da parte della Corte Europea dei Diritti Umani per due condizioni di lunghissimo periodo, che sono una recitata da un sovraffollamento e l'altra le condizioni igienico-sanitarie spaventose. E quindi il Presidente Mattarella è visto come la parte sensibile delle istituzioni, quella che per la sua autorevolezza e per la sua autorità potrebbe fare qualcosa. Quindi è positivo che ci sia questo dialogo che viene tenuto aperto, anche perché spesso l'istituzione che è dentro il carcere è un'istituzione con la quale il dialogo è molto complicato, in alcuni casi non c'è un dialogo, ci sono punizioni, ci sono prestaggi, ci sono torture. Esatto, e la cosa che ci colpisce non è soltanto la possibile ipotetica apertura dalla creazione di questo dialogo da parte della Presidenza della Repubblica, ma anche dalle stesse detenute, nel senso che forse non ho una memoria storica tale sul fenomeno da ricordarmele, ma non credo che si continuino sulle liti di tante mani le iniziative in cui appunto siano le persone in detenzione a cercare il dialogo in questo modo, con una lettera, con una comunicazione, insomma siamo abituati da moltissimi virgoletti ad altri tipi di manifestazioni all'interno delle carceri, quindi forse anche questo può segnare qualcosa, un qualche segnale. Me l'auguro, anche perché è una forma di protesta civile, non violenta, nelle prigioni ci sono spesso proteste che non sono necessariamente violente, ma hanno un obiettivo non di richiare l'attenzione delle istituzioni, ma di manifestare nella maniera più visibile possibile le condizioni spesso inumane di detenzione, e quindi è bene che queste proteste rimangano di questo tipo, anche perché all'Orizzonte noi abbiamo a settembre l'approvazione finale del cosiddetto pacchetto decreto di sicurezza, che prevede anche delle misure inasprite che riguardano anche le proteste all'interno delle prigioni, quindi è una situazione sempre più disperata. Se non sarà più possibile neanche protestare in maniera civile nelle prigioni, che sono già luoghi abbastanza opachi, non sono affatto trasparenti, quindi noi non è che sappiamo sempre tutto quello che accade dentro, si avvia un periodo molto problematico. Chiaro, chiaro, e infatti in questo periodo ci sono anche diverse proteste di questo tipo che non vogliamo chiaramente mettere in secondo piano, non vogliamo elevare questa lettera che ha colpito la nostra attenzione, mettere in secondo piano altri tipi di manifestazioni, di proteste, di cui appunto, come dicevamo in apertura, i detenuti hanno diritto, come non abbiamo diritto noi, ne hanno diritto loro che stanno dentro al carcere. Abbiamo parlato un po' in questa intervista dell'attenzione, il livello di attenzione che sale e scende, abbiamo guardato lo sguardo dei politici, forse voglio andare a chiudere questa intervista con la domanda più ostica di tutti, cioè cosa ne è nel nostro sguardo, il nostro sguardo di cittadini, come possiamo guardare le carceri magari un po' in un altro modo e non adagiarci a quegli stereotipi che abbiamo seguito fin qui. Per la nostra sicurezza di tutte e di tutti, non basta a volte anche il controproducente che le carceri si riempiano di persone che sono tenute condizioni subumane, nel senso che ci dicono tutti gli studi che la recidiva è alta ed è proporzionalmente legata alle condizioni di detenzione, quindi non basta, come lo dico in termini un po' così, dalla strada a togliere di mezzo i criminali, poi bisogna vedere spesso chi sono, occorrono condizioni detentive umane, cioè se si vogliono costruire nuove carceri per affrontare il sovraffollamento, questo da solo non basta perché noi nel corso degli anni abbiamo scordato via via tutte le misure alternative. Penso al fatto che molti suicidi accadono all'ingresso, quindi non c'è neanche, chiamiamola accoglienza, cioè un ambientamento, è uno shock, si entra per dei reati di modesta entità, ci si rimane in attesa del processo, c'è tutto il tema della tossicodipendenza, mancano le misure alternative, ci sono cittadini stranieri che non possono essere messi ai domiciliari perché un domicilio non ce l'hanno e non è che siano necessariamente pericolosi più di altri perché sono stranieri. Ecco, va fatta una riforma complessiva per la nostra sicurezza, non soltanto per i diritti dei detenuti. Allora, avevo detto che era l'ultima domanda, ma così Lampo, alla fine una riforma di questo tipo la si vede anche solo lontanamente all'orizzonte oppure c'è ancora tanto, tanto da lavorare? C'è tanto da lavorare perché io sento solo parlare di costruzione di nuove carceri e quindi bisogna che l'opinione pubblica recuperi questa idea che i diritti sono di tutte e di tutti, non sono bollini del supermercato che tu metti sulla testa del comportarsi bene e poi bisogna che la politica affronti in maniera seria tutto questo, riprendendo tutto quel tema delle misure alternative che sono sicuramente misure più utili a costruire nuove carceri. Chiaro, mi viene in mente quella vecchia poesia in cui si raccontava durante la salita del nazismo vennero a prendere loro, vennero a prendere noi, non so se si citavano i detenuti all'interno di quella poesia che non ricordo a memoria, ma insomma il succo è un po' questo, se vengono intaccati i diritti di una parte della popolazione vengono intaccati anche i nostri anche se non ne subiamo fisicamente le conseguenze. Ricordiamocelo bene, sì, perché la storia ci dice che è esattamente così. Esatto, esatto, e ogni tanto magari un'occhiata alla storia un po' più approfondita della nostalgia di certe tendenze, potremmo anche permettercelo, sarebbe anche il caso. Insomma, questo era un po' uno sguardo che volevamo fare su questo scenario, nel frattempo consiglio a chi ci segue, chi ci ascolta e ci guarda di dare un'occhiata all'attività di Amnesty International Italia, noi l'abbiamo pinzati quest'oggi per il tema delle carceri, ma chiaramente lo spettro di azione è ancora più ampio. Intanto però grazie mille davvero Riccardo Nuri per questa chiarificazione su alcuni elementi, grazie davvero e alla prossima. Grazie a te, buon lavoro. Grazie a te, buon lavoro.